Il mio compagno a Cogna, aveva una tarantra. Il mio segretario ragno si gira. Modello... Com'è che si chiama? Alguien. No, ma te dimmi, guarda che roba. Bellissima. Sta facendo il cappottino. Guarda, guarda che ancora si muove, guarda. Praticamente lo sta soffocando. Ma poi mi pare che lo punde, lo punde per tipo addormentarlo. Una volta che non lo uccide, lo addormenta. Guarda. Tipo la tarantola ha un sonifero di 45 ore. Ti mette il corpo in 45 ore, è come se fossi in coma. E c'è un sacco di insetti, chiudono degli anti-insetti. L'avete mai visto il film Alien?